Musica Ciao ragazzi, oggi siamo su The Long Deck Allora, la storia non è perché è ancora in beta, in alpha Allora, vediamo questo, prendiamo la donna, va? Questa qua è una mappa che lo faranno Andiamo su Mystery Lane E' un gioco di sopravvivenza E' estrema ovviamente Perché siamo contro la natura stavolta Il freddo, gli animali eccetera eccetera Dovamo scoprire le risorse ovviamente E l'obiettivo dovrebbe essere andare verso la diga Ovviamente dopo che abbiamo le risorse necessarie per campare Allora, andiamo a vedere di qua Che c'è di bello Ovviamente abbiamo il crafting, va tutto L'equipaggiamento Ovviamente Ovviamente Eh l'olio Ci mettiamo anche i jeans Ovviamente 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 Abbiamo stato attento ai lupi Ai orsi Potremmo cacciare Quando avremo un'arma Un'acetta Blah 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 Oh Ci sono già delle campagne Bene Questo dovrebbe essere Mystery Lane Tecnic One stop access Ok Eh 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 Senti Che freddo la nostra Questa Infatti Come vedete Cold sta Aumentando e siamo a temperatura e l'aria a meno 18 film link meno 24 adesso andremo a vadare dentro quelle cappanne cosa c'è di bello fate una bella corsetta e vabbè fatemi sapere se volete il continuo di questo gameplay se no è un video dimostrativo basta allora vediamo un pochetto scusa ma dove c'è la porta ecco door ok adesso per esempio qua dentro cosa c'è di bello ok antisettico poi nient'altro ok qua c'è per dormire cosa c'è? un flyer ok prendiamolo non c'è nient'altro no qua non c'è niente qua non c'è niente ok andiamo fuori andiamo a vedere andiamo a vedere questa casetta allora ok entriamo qua ci abbiamo un giornale bene per accendere il fuoco un wood un libro una taggiata da mangiare ok allora qua non c'è niente no qua non c'è niente qua c'è il legno si ovviamente il legno qua detto non c'è niente ok qua non c'è ma che una stufa no beh allora abbiamo fatto questo quello e ci manca questa un'altra cabina qua non c'è niente no qua dentro non c'è niente non c'è niente un'altra che ci serve per una lattina benissimo non c'è niente ok qua non c'è niente sotto il letto non c'è niente no ok qua c'è ah questo va allora cosa sto vendaggi benissimo da bere e basta ok riusciamo ok adesso quasi quasi andremo a vedere le altre casette vadremo sopra il ghiaccio in teoria vediamo come stiamo col caldo allora vediamo un pochetto cosa abbiamo qua ci dovremo riscaldare vediamo a vedere se no la temperatura 94 10 bonus più più 3 più 0 ok vediamo a vedere questa casetta qua il vince il leg vediamo 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 se lo troviamo altro vendaggio niente qua sotto altro da mangiare da mangiare e niente altro qua dentro un bel niente qua c'è la stufa non c'è nient'altro no vediamo da quell'altro 100% in condizione ancora benissimo tre abbiamo tre abbiamo ade giunto ok allora vediamo qua c'è qua dentro un piede porco una telatina a bere ok qua sotto allora un bel niente ah no è da mangiare bene qua qua dentro non c'è un bel niente ok qua è sempre no no andiamo da quella quella là che dovrebbe essere un specie cottage 98% fredding abbiamo freddo eh già accenderemo un bel focchetto dopo adesso vediamo in quella stacqua a casa eh lo so è freddo lo so resisti ancora due secondi misterio lake ok campo office ok adesso vediamo un pochetto intanto accendiamo la stufa due wood ok vai start accendiamo sto bellissimo focchetto che ci riscaldiamo poco dai ok ci sta 26 minuti mezza mia solo non lo so non lo so potrebbe essere utile qua c'abbiamo altro cerchiamo qua c'è di bello niente nel cassettino non c'è una cippa qua dentro non c'è niente bene bene modo di dire ho un bandaggio niente vediamo qua dentro purificazione ah purificazione dell'acqua bene bandaggio antisettico ok nato antisettico oh qua c'è un accelerante per il cuoco bene qua dentro no no non volevo uscire non volevo uscire voglio andare a cuocciamo qua oh una bella lanterna bene ok bandaggi candy bar da mangiare un'altra scatoletta oh una scatoletta benissimo vediamo qua dentro ora c'è niente ho dentro da bar niente e non c'è niente qua c'è una tannica vabbè prendiamo quanto stiamo con il bagaglio però 15 su 300 ok su 30 kg vabbè allora qua 6 minuti devo andare sopra oh buongiorno qua c'è uno stecchito c'è uno morto oh il baretto mi fa piacere bene ok non c'è niente qua invece le scarpe jeans ok aspetta prima che ah si infatti angli abbiamo fame allora vediamo un pochetto questo qua dopo si cotton lung si va benissimo condizione allora cosa è faster ok qua c'è il tipo ah c'è il tipo ok vediamo qua non c'è niente ok questo qua cos'è oh pain killer per il dolore non c'è niente qua c'è c'è la stufa ok accendiamo qua 27 minuti ora l'ho già guardato e niente qua dentro l'ho già guardato ok vediamo di mangiare qualcosa adesso ok abbiamo ancora fame porca vacca quanti vendaggi abbiamo per il dolore per il dolore ok scassavo allora vediamo tanto beviamo questo ok l'assetto l'ho fatto abbiamo ancora l'ho fatto vabbè ancora 40 minuti ci faremo un bel riposino adesso 1 o la 6 ok ok allora cold siamo a posto angry un glock una fame abbiamo ancora fame ragazzi suotti allora di di oranzo soda vediamo qua mettiamoci l'alante va sennò ok 20 minuti adesso vediamo ci abbiamo holding super tranquillare ok l'avevo mangiato come stiamo ancora che cacchio quanta fame hai ne siamo pure sette di nuovo bevete un orange soda ok vabbè ragazzi noi ci sentiamo al prossimo gameplay sempre con il vostro volpitch all'altro te cosa è che oh 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 No, 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 no.